Daniel Offredi, dopo la partita di Trapani si riprende la preparazione al centro sportivo di Zanica, come sta andando il lavoro? Il lavoro sta andando bene, stiamo riprendendo dalla batosta che abbiamo preso a Trapani e cominceremo a lavorare per affrontare il meglio del campionato che inizierà a settembre. Ma per quello che riguarda i tuoi obiettivi personali? I obiettivi personali quest'anno sono di tentare la scalata per andare in Serie B, raggiungere i play-off e poi tentare il tutto per tutto per salire. Quando riceverai il Goalkeeper Awards che ti è stato conferito lo scorso anno? Un onore non da poco visto che sei stato definito il miglior portiere della Liga Pro. Un bel premio e lo riceverò a dicembre, il 23. Grazie Daniel, buona giornata. Prego, buona giornata. Grazie a tutti.